Cosa c'è di trovare o di vedere la felicità? Per esempio in uno scoiattolo, diversi anni fa predicavo a Montreal e una mattina quando uscì un po' di sole, dopo temperature di giorni che andavano da meno 30 a meno 40, non ho resistito alla tentazione di uscire anche se c'erano meno 10, ma passare da meno 40 a meno 10 vuol dire come passare dall'inverno all'estate per noi dell'Europa. E così decisi di fare una passeggiata per rientrare nella parrocchia dove ero ospite e predicavo dopo un'intervista a Radiomaria. Mentre camminavo sono fermato a vedere uno scoiattolo che nella neve stava con le sue zampine a cercare qualcosa da mangiare. E una volta che trovò qualcosa che io non riuscì a vedere perché dovevo stare anche a distanza di sicurezza per non farlo scappare, mi era passo di vedere lo scoiattolo, volgere lo sguardo verso di me e entra a vedere nel suo visino la felicità e poi scappare. Cosa c'è in questo episodio di felicità che io ho vissuto perché subito dopo questa scena ho avvertito una gioia interiore unica, profonda, eppure era uno spettacolo, ma uno spettacolo di un piccolo scoiattolo. Mi meravigliai di quella gioia. E lì comprese ancora di più come la vera felicità viene anche da un cuore che è capace di scorgere le piccole cose, di vedere il bene, il bello nelle piccole cose, come in questo piccolo scoiattolo che cercava da mangiare e che una volta trovato scappò via con felicità oppure come vedere tre passeri che sempre sulla neve o sui prati sono lì a cercare qualcosa e poi vanno via. O vedere un cielo che anche se coperto di nuvele tu comunque vedi la luce. Allora la felicità dipende anche da come tu vedi il mondo, da come il tuo cuore ti fa vedere il mondo, non è la televisione che mi fa vedere il mondo, non è il progresso che mi fa vedere il mondo, non è il benessere economico, è il cuore, un cuore felice, un cuore pulito, un cuore che si sa accontentare nella vita, ma non accontentare nel senso di così, di passività, no? Che sa essere felice del poco che ha o del molto che ha e di dividerlo, bene, questo è un cuore che mi fa vedere il mondo e in ogni parte del mondo anche nel brutto, nel male mi fa scorgere la felicità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, diritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!